Dunque contro la Carrarese, il peggiore avversario che potesse capitare, doppia rimonta e pari all'ultimo respiro, il primo della 2024. Sul piano della voglia, del carattere, il segnale è confortante ma c'è ancora tanto da migliorare. Rivoluzione tattica dal 4-3-3 al 3-4-1-2, meglio nell'ultima mezz'ora quando Bucaro ha rinunciato al trequartista Tuniov e schierato il tridente leggero Merola a Cornero Cangiano. Serve tempo, cambiano le uscite, senza palla cambia tutto rispetto al 4-3-3. Da capire se Bucaro a Rimini, partita in programma venerdì alle 20.45, confermerà la difesa a tre. Ma a prescindere dal sistema di gioco sarà necessario risolvere i problemi in fase di non possesso, troppa distanza tra i reparti, i soliti limiti nelle retrovie. E' quando si guarda più la palla dell'avversario che ha sempre troppo spazio, problemi che purtroppo il Pescara si porta dietro dall'inizio della stagione. Incassati 46 gol in 31 gare di campionato. 5 KO, un pareggio, un solo successo nelle ultime sette all'Adriatico contro la Lucchese, la prima della gestione Bucaro. A Rimini tornerà a disposizione Sasanelli, per Vergani invece bisognerà aspettare ancora il rientro dell'ex Inter e previsto nella prima settimana di aprile.